salve amiche e amici oggi come avrete penso sicuramente sentito i telegiornali e i vari notiziari c'è stato il più grande attacco di droni e missi da crociera da parte della russia ai danni dell'ucraina si sono contati più di 210 oggetti fra missi da crociera e droni e vari decoi che sono partiti da diverse località nella russia e nel caucaso settentrionale con lanci aerei come vediamo in questa immagine sono partiti altri sono partiti da terra dalla russia e tra l'altro hanno allertato anche il servizio di protezione dello spazio aereo polacco che è intervenuto facendo decollare i suoi caccia su allerta le città colpite dell'ucraina sono state tante le più importanti odessa kiev ma anche altre località nella ucraina occidentale hanno preso di mira infrastrutture energetiche di collegamento per quello che è stato un attacco terroristico in piena regola infatti le infrastrutture energetiche civili lontano dal fronte sono attaccarle e viene considerato tutti gli effetti crimine di guerra e questo è soltanto l'ultimo di una lunga lista di questi eventi che vengono condotti dalla russia non posso mostrarvi le immagini oggi perché sono tante comunque si parla di qualcosa come otto vittime fra i civili decine di feriti giusto questa notte vi ringrazio qualcuno di voi mi scriveva proprio dall'ucraina mi diceva guarda che questa notte sono scattati gli allarmi aerei e questa per esempio è la metropolitana di kiev che un po un'immagine che ricorda la londra degli anni 40 per intenderci ora se il cremlino spera di riuscire a ottenere risultati con queste azioni meschine beh si sbaglia di grosso perché appunto la storia insegna che colpire i civili non porta a nessun risultato strategico né politico l'unica cosa che crea è appunto ancora più condanna verso le azioni del cremlino in queste immagini vediamo proprio le infrastrutture energetiche colpite per quanto riguarda poi l'intervento degli f16 è stato dichiarato che questa notte sono intervenuti abbattendo 10 missi da crociera questa per esempio è una categoria kh 101 con il motore a getto che lascia questa sottile scia di fumo e sono oggetti molto veloci che viaggiano come aerei di linea intorno a 700 800 km orari e quindi è necessario l'intervento dei caccia per intercettarli detto questo comunque ne approfitto anche per rispondere a una richiesta di debora della cara debora che mi chiede notizie proprio sullo sviluppo e le modifiche a questo drone che è stato utilizzato anche questa notte e si parla dello chahed iraniano che come sappiamo è una fornitura costante all'arsenale russo da parte dell'iran ora rispetto al progetto iniziale i russi lo hanno modificato si sta parlando comunque di un drone che pesa 200 chili con una velocità massima di circa 185 chilometri orari è un'autonomia di 2500 chilometri quindi veramente un oggetto a lungo raggio ora rispetto al drone iraniano che è pensato solo come ordigno i russi hanno introdotto alcune modifiche soprattutto alla struttura con modifiche alla alla struttura intesa come realizzandola in fibra di vetro e fibra di carbonio rendendola più leggera e in questo modo facilitano anche la produzione su larga scala anche l'elettronica interna è stata modificata per adattarsi alle tecnologie satellitari russe come appunto il sistema di navigazione satellitare come età m tutto questo per aumentare il carico utile portandolo a 90 chili di esplosivo e riducendone un tantino l'autonomia con qualcosa poco superiore ai 1000 chilometri il che è sufficiente per quanto riguarda questi droni che devono colpire l'ucraina altre modifiche sostanziali riguardano il sistema di navigazione l'utilizzo di telecamere per cui alla fine i russi utilizzano questo oggetto non solo come drone per colpire infrastrutture ucraine ma anche per la ricognizione quindi lo hanno adattato per un uso multiruolo ora per quanto riguarda la situazione è chiaro che stiamo vivendo uno dei periodi più bui di questa guerra che ha raggiunto quasi i mille giorni di conflitto per cui la situazione la vediamo i russi stanno avanzando nel donbass questo attacco dronico è l'ennesima prova di forza da parte della russia che suscita soltanto come devo dire le reazioni internazionali e molti dicono che sono gli ultimi tentativi di putin per cercare di fare pressione all'occidente a scopo politico colgo l'occasione proprio per citare questo questa doppia intervista o come scambio di battute fra jake bro e jason j smart dove appunto viene ripetuto che è vero che i russi nel donbass avanzano ma è anche vero che lo fanno a un costo enorme di vite umane solo ieri è stato superato superata la soglia dei 2000 uomini fra caduti dispersi catturati più innumerevoli mezzi distrutti per ogni metro di terreno che i russi conquistano perdono migliaia di uomini se gli ucraini si ritirano beh lo fanno poi piazzando mine dappertutto rendendo comunque molto difficile l'avanzata russa altrove come nella regione di kursk vediamo continui assalti un qualcosa come un assalto ogni 15 minuti viene detto in questo scambio di battute e comunque lì non riescono a ottenere nessun risultato significativo i russi nella regione di kursk ora l'aspetto politico della questione kursk è particolare nel senso molti ritengono che il dispiego di forze ucraina in questa regione sia stato un inutile spreco di risorse che potevano essere utilizzate altrove d'altro canto da parte del cremlino non c'è nessun interesse di parlare della regione di kursk come una eventuale come un eventuale motivo di scambio territoriale fra l'ucraina e la russia con le regioni conquistate in qualche modo la narrazione politica e propagandistica russa tende a ignorare completamente la regione di kursk per cui la cosiddetta sua liberazione viene annunciata e poi rimandata quotidianamente tanto che oggi si parla al 20 gennaio come data ultima per la liberazione di quest'area chissà perché ha a che fare con l'insediamento di trump vedremo in ogni caso la situazione è questa e in termini di vite umane risorse la russia non potrà continuare all'infinito perché a un certo punto il gioco non varrà la candela e si parla del 2025 come anno ultimo in cui appunto risorse finiranno e non ci saranno più le energie per continuare questa guerra colgo l'occasione anche per citare nina questa questa ragazza ucraina che è presente su x che ci racconta appunto la sua la sua versione dove dice un pizzico di ottimismo fra le preoccupazioni le perdite russe in prima linea sono senza precedenti da record dall'inizio della guerra stanno riempiendo i ranghi ma le risorse non dureranno per sempre i loro progressi si fermeranno presto in una sola settimana i russi hanno perso 90 pezzi di equipaggiamento kursk senza alcun guadagno i nostri difensori continuano a catturare i prigionieri di guerra e a smantellare le loro unità le raffinerie di petrolio russe rischiano la bancarotta e interrompono la produzione anche senza i nostri detriti dei droni che cadono gli orchi vedono che stanno perdendo quindi putler cerca aiuto alle nazioni impoverite nonostante abbiano risorse molto maggiori delle nostre l'anno prossimo potrebbe porre fina e questa guerra con la russia è il suo collasso e tutto sarà in favore dell'ucraina quindi condivido un po queste impressioni fra l'altro come progressi ucraini si segnala anche la caduta di un famoso propagandista che ha un canale proprio su x che ha incontrato la sua fine al fronte altre notizie importanti arrivano per esempio sempre dai russi in cui pare che ci siano grossi problemi di convivenza con le truppe coreane che nord coreane perché per una questione religiosa dal momento che i soldati nord coreani in qualche modo sono incompatibili con le ideologie dei soldati russi quindi gli stessi preti che qui fanno dei sermoni si raccomandano di non ascoltare quello che dicono i nord coreani un altro aspetto singolare di questa guerra che dire mentre al fronte cade la neve queste sono immagini che arrivano proprio in questi giorni sono soldati ucraini che ci mostrano il paesaggio innevato in queste altre immagini li vediamo marciare diretti verso il fronte quindi la situazione sta cambiando rapidamente le temperature si abbassano tutto questo è anche il motivo per cui i russi stanno cercando di ottenere quanto più territorio possibile in questi giorni continua il lavoro eccellente della seconda compagnia di assalto ucraino della seconda brigata d'assalto della terza scusate che continuo a fare imboscate nella regione di kiev di kharkiv qui in questo video vengono mostrati diversi decine di soldati russi a terra ad opera di queste unità ucraine altro successo strategico è stato distrutto un pezzo di un importante sistema di difesa russo questo è un book che ha un importante ruolo della difesa a medio raggio altre immagini non ve le posso mostrare ma ci sono per esempio nella regione di zaporizia ne parleremo fra poco dove sono stati segnalati importanti successi nella distruzione ecco vi posto questa immagine se riesco a mostrarvelo passiamo qui nella regione di zaporizia si segnalano importanti progressi con l'utilizzo della dei pezzi imars che hanno colpito un intero battaglione russo decimandolo questo è un questo video mostra questa localizzazione mostra proprio quello che è successo in questo frangente tre giorni fa quindi per quanto riguarda gli aggiornamenti dal fronte come vi avevo riportato nei giorni scorsi un tentativo di assalto russo da nord verso la regione di kursk è stato ampiamente respinto le posizioni aggiornate infatti ci mostrano che gli ucraini hanno ripreso questi territori che erano contesi fino a qualche giorno fa per quanto riguarda invece l'assalto russo da ovest ha incontrato anche qui la distruzione sistematica dei loro mezzi btr mtlb stiamo parlando di tutti i mezzi che portavano uomini che vengono sistematicamente colpiti dalle forze ucraine qualche perdita ucraina c'è stata all'interno però ecco uno degli assalti più importanti di queste ore sicuramente avviene da est da parte russa dove anche qui hanno perso mezzi e uomini altri cambiamenti nella regione di karkiv non ci sono stati in tutta la regione sopra lipsi e vojecciask mentre nell'assalto a est diretto verso kupiansk come avevo accennato giorni fa c'era stata una alcuni mezzi russi che erano riusciti a sfondare ad alta velocità e a collocarsi in centro dove poi sono stati distrutti un attimo prima della loro distruzione avevano dispiegato diversi uomini che si erano distribuiti nell'area ma come vedete poi tra l'altro è arrivato il 13 questo video che ci mostra la cattura dei soldati russi che erano scampati all'azione iniziale ora spostiamoci un po più a sud dove si segnalano altre attività droniche ucraine sulla linea est e poi le azioni più significative le vediamo nell'area di chiasi viar come vi avevo annunciato ci sono stati progressi da parte russa in quest'area quindi a sud della città vedendo che in quest'area non ci sono rinforzi non ci sono trince in difesa di quest'area mentre tutta l'area di chiasi viar come vedete lungo il fiume è ben fortificata quindi non riuscendo a superare questa linea per mesi i russi hanno deciso alla fine di spingere più a sud cercando appunto i punti deboli nelle difese ucraine l'area di toresk è anche è ancora oggi interessata da violenti combattimenti casa per casa quartiere per quartiere come vedete i russi sono riusciti anche a spingersi spingersi in alcuni quartieri in questa direttiva mentre i combattimenti continuano in centro soprattutto ad opera dei droni ucraini dove colpiscono chirurgicamente sulle posizioni russe questo è avvenuto giusto ieri l'altro ieri con azioni di artiglieria ho visto alcuni video in cui si vede appunto che gli ucraini piazzano cariche da demolizione sugli edifici che devono abbandonare e quando aspettano che i russi vi si insediano e li fanno brillare e il palazzo viene giù con tutti gli occupanti anche più a sud nell'area di nebile pilca i russi hanno cercato di ottenere posizioni ma hanno incontrato la resistenza ucraina che ha colpito mezzi il 16 giusto ieri anche nell'area di new york fra l'altro interessante cinque giorni fa e tre giorni fa ci sono stati dei bombardamenti con l'uso dell'aviazione ucraina sulle posizioni russe questo è stato fatto con l'utilizzo delle bombe occidentali le jdam er che sono l'equivalente delle bombe plananti occidentali però delle bombe plananti russe ma più tecnologiche e più precise in generale nell'area di pokrovsk vediamo i progressi ora come sapete pokrovsk era stata data per conquistata un mese fa come se i russi fossero già stati in presenza della in presenza del reticolo urbano ma la situazione è ferma nella direttiva principale verso pokrovsk ormai da due mesi che è così che i russi qui non riescono a passare mentre come sappiamo stanno cercando di sfondare su varie direttive più a sud soprattutto nell'area di kurakove e lì infatti hanno ottenuto i progressi più importanti in questi giorni vediamo comunque che l'azione ucraina nelle retrovie ha lo scopo di indebolire proprio le posizioni russe a partire da dietro la linea del fronte mentre i russi cercano in tutti i modi di raggiungere l'area urbana di kurakove e in parte vi sono riusciti come possiamo vedere da questa mappa comunque i combattimenti continuano sulla strada principale unica via di collegamento per attraversare anche fra l'altro come vedete c'è un ostacolo naturale rappresentato dal lago gli ucraini mandano a segno le loro i loro pezzi di artiglieria distruggendo unità russe mentre da parte russa continuano le avanzate a sud nell'area che era quella di vugledar e qui riescono a occupare territori quindi questa è la situazione al fronte come possiamo vedere come vi avevo riportato poco fa anche più a sud qualcosa si sta muovendo e si segnalano intense attività droniche ucraine e di artiglieria per quelli che possiamo dedurre se ci sono attacchi dronici qui da parte ucraina è perché è segnalata la presenza di truppe russe non posso mostrarvi le immagini ma ci sono alcune immagini piuttosto pesanti che mostrano interi plotoni venire presi di mira da dai pezzi di artiglieria dai dai proiettili di artiglieria ucraini come qui che per esempio il 16 c'è stato un airstrike da parte ucraina quindi l'ucraina sta continuando a usare la sua aviazione con successo vi avevo portato poi all'attenzione due giorni fa l'attacco a krimsk ancora non sono arrivati i rapporti sui danni eventuali inflitte la base se non alcuni video fatti dai residenti che mostrano esplosioni e droni colpire l'aria quindi nei prossimi giorni avremo notizie in più passiamo a parlare d'altro per quanto riguarda il caucaso come vi avevo accennato nella live in cui vi ho parlato proprio della storia della regione molto complicata il motivo per cui i residenti della casia si sono ribellati e hanno occupato il governo locale è stato perché i russi avevano promosso una legge per permettere agli oligarchi di comprare impunemente qualsiasi area qualsiasi territorio della regione a questo punto i cittadini si sono ribellati hanno insediato qui vediamo il municipio che con l'aiuto fra l'altro anche della polizia che non ha non è assolutamente intervenuta per sedare gli animi tutto questo è avvenuto fra l'altro mentre il governatore locale si è rifugiato all'estero dicono voci dicono che si sia rifugiato in russia in un primo momento si è dimesso dall'incarico adesso quanto pare ha cambiato l'idea quindi la situazione è tesa e aspettiamo ulteriori sviluppi nel frattempo anche in georgia le proteste civili continuano in questo caso al parlamento con l'insediamento dopo la vittoria alle elezioni del partito filorusso che si chiama sogno georgiano sembra un po come devo dire no una un controsenso qui vediamo appunto politici ribellarsi lanciare della vernice nera contro il rappresentante del partito filorusso che diciamo non l'ha presa proprio bene qui lo vediamo proprio un attimo dopo io avrei avuto diciamo delle obiezioni soprattutto sull'utilizzo della vernice nera avrei preferito quella marrone in questo caso sarebbe stata più appropriata l'ucraina poi sta sviluppando come sappiamo ormai si segue questa notizia da mesi lo sviluppo della propria arma come intesa come missili da crociera sulla base del neptun e palinissa missile che darà la possibilità all'ucraina di colpire in profondità la russia con qualcosa di più specifico e anche più efficace dei droni perché dobbiamo ricordare che i piccoli droni trasportano esplosivo relativamente leggero e non in grado di penetrare strutture militari o ponti o strutture rinforzate in generale per fare questo insomma gli ucraini hanno bisogno di oggetti molto più veloci ed efficaci e quindi il ministero della crociera è l'unica cosa di cui hanno bisogno per fare questo per fortuna stanno sviluppando la loro versione domestica per cui non sarà soggetta a nessuna restrizione da parte dell'occidente sempre per restare sul tema ucraino oggi a sorpresa è arrivato il ministro degli affari esteri giapponese per portare appunto la solidarietà del popolo giapponese all'ucraina ha visitato i luoghi della memoria facendo cerimonie e non solo questo diciamo non è stato solo una una visita di questo tipo infatti come devo dire il giappone ha portato anche aiuti in termini economici all'ucraina con 3 miliardi di dollari nell'iniziativa che comprende 50 miliardi di dollari del g7 quindi la visita del ministro degli esteri giapponese è stata sicuramente gradita e aiuterà la popolazione soprattutto in questo inverno difficile in cui la russia distrugge le infrastrutture energetiche del paese bene detto questo come sempre mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace anche questo video sono due gesti fondamentali proprio per permettermi di andare avanti per autofinanziare questo canale l'indicizzazione in particolare dipende molto dai like questo è un piccolo gesto che proprio permette al canale anche di crescere e niente come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate vi ringrazio per i commenti che avete lasciato anche questa notte per chi avete la mia massima un grande abbraccio massima solidarietà per tutte le persone che mi seguono anche dall'ucraina e come sempre un abbraccio alla prossima